Ernesto Burgio, medico chirurgo specializzato in pediatria, probabilmente il più illustre esponente di epigenetica e carcinogenesi ambientale, che appunto ci parlerà della transizione epidemiologica del XXI secolo, dalla genetica alla epigenetica. Grazie Ernesto, buon ascolto a tutti. Grazie a voi per questo invito, grazie a tutti, spero di farcela perché come sentite ho una voce assolutamente pessima perché ho fatto ieri otto ore di lezione e sono uscito che non avevo un filo di voce. Comunque ci proviamo. Stamani ho deciso in extremis di aggiungere una serie di diapositive iniziali un po' ispirato dalla relazione che mi ha preceduto, che parla di prevenzione ed è fondamentale. Perché? Perché noi conoscevamo, sapevamo, avevamo previsto e preannunciato l'avvento di una pandemia drammatica, abbiamo fatto poco, non siamo riusciti a prevenirla perché tutto sommato spesso in medicina, soprattutto in occidente, si pensa più a curare, ad affrontare le cose una volta che si manifestano anziché a prevenirle. Ecco, questo è un punto fondamentale. Allora ho pensato un accenno a un editoriale importantissimo che molti di voi sicuramente conoscono, del director in chief di Lancet, Richard Horton, che nel settembre del 2020, all'inizio della seconda, la peggiore ondata della pandemia, scrive su Lancet questo editoriale che ha un titolo quasi provocatorio e dice la Covid non è una pandemia. Ora, ovviamente, bisogna capire cosa significa. Quello che sta dicendo Horton è la Covid è più che una pandemia, è una sindemia. Una sindemia significa in che misura questo virus uccide o è un virus che uccide soltanto alcune persone e perché? E perché sono le vittime, gli obesi, i diabetici, i cardiopatici, quegli affetti da ipertensione? Perché nelle aree più inquinate c'è una quantità di morti molto superiori? Queste sono le domande che si pone Horton e sono domande ovviamente importantissime e collegate con la tematica che devo affrontare, quella delle malattie croniche, perché tutto sommato quello che sta succedendo è che si stanno collegando queste due pandemie, quelle da malattie croniche e quelle da cosiddetti, diciamo da agenti patogeni potenzialmente pandemici. E ovviamente vado molto di corsa, ho messo queste slide per ricordare appunto quali sono state le vittime in generale. Non si può dire che sono stati gli anziani, ci sono soggetti di 90-100 anni che non hanno avuto forme di Covid grave. Sono i soggetti che hanno gli endoteli infiammati, cioè l'infiammazione persistente cronica delle arterie è il punto chiave, perché questo virus va a triggerare delle reazioni immunoinfiammatorie gravissime, spesso delle reazioni citochiniche o macrofagiche acute proprio nei soggetti che già sono cronicamente infiammati. Ed ecco perché nelle aree più inquinate, per esempio la pianura padana in Italia, dove il particolato ultrafine da 20 anni è praticamente in continuo aumento e come poi vedremo il particolato ultrafine è l'altro grande trigger delle reazioni infiammatorie. Quindi si stanno sommando queste due emergenze. Queste slide che sono note da 20 anni, ma ancora una volta inutilmente note, ci parlano, e questa era una diapositiva che proiettavo già 20 anni fa, del fatto che ci sono almeno 10 milioni di morti ogni anno. Quindi una pandemia che va avanti da oltre 20 anni con 7-12 milioni di morti da particolato ultrafine, da metalli pesanti, insomma da inquinamento atmosferico delle grandi città. Quindi è una pandemia in atto da 20 anni, non è che si faccia molto per affrontarla. E che cos'è il particolato ultrafine? Questo che vedete è un capello. Quello che vedete in azzurro è il particolato PM10. Se voi immaginate cosa significa la dimensione del 2,5, che sarebbe quelle palline rosse, ma non riuscite a immaginare cos'è l'ultrafine. L'ultrafine sono le nanoparticelle che sono il prodotto di reazioni termochimiche, dei motori diesel, dei grandi impianti, che hanno un diametro di 0,1. Quindi qualcosa di totalmente diverso. Perché totalmente diverso? Perché sul piano biologico, il particolato grossolano, il PM10, il PM2,5 si ferma negli alveoli. Il particolato ultrafine passa attraverso gli alveoli, va in circola, passa tutte le barriere biologiche, passa la barriera emato-cerebrale, passa la placenta, passa la membrana plasmatica, passa la membrana nucleare, va sul genoma e disturba la programmazione epigenetica delle cellule. Quindi anche nel bambino, quindi anche nell'embrione e nel feto. Questo è la premessa di tutto quello che è. E queste immagini che vedete sono quelle delle arteriole e delle arterie infiammate cronicamente. Molto simile alle immagini del virus che sempre su Lancet nel 2020 abbiamo visto ad aprile entrare nelle arteriole, nelle pareti delle arteriole e quindi fare da trigger in una situazione in cui già c'è l'endotelite. Allora questo significa un po' quello che voleva dire Horton in questo editoriale importantissimo. Questa cosiddetta low grade inflammation, cronica, persistente, diffusa, che ormai riguarda pure i nostri bambini, vedete questi sono i globuli bianchi dei bambini delle grandi città, pieni di particolato. I mitocondri dentro le cellule, il nucleo, sono pieni di particolato ultrafine. Quindi è un'emergenza globale, va affrontata e va affrontata adesso. È inutile che poi dopo ci diciamo, come per la pandemia lo sapevamo, come dicevamo, voi sapete tutti che la Covid, la cosiddetta long Covid colpisce soprattutto il sistema nervoso. Perché? Perché il virus fa esattamente come il particolato ultrafine, passa attraverso il nervo olfattivo, entra nel lobo frontale, entra nell'ippocampo e provoca una serie di reazioni. Allora come vedremo? Questo che riguarda la sindemia riguarda anche il discorso che faremo sulle patologie neurodegenerative, su tutta una serie di patologie croniche, infiammatorie e anche tumorali che sono diventate, qualcuno già negli ultimi anni parlava di pandemia di obesità, pandemia di diabete secondo, pandemia di tumori. Erano termini che dicevamo forse eccessivi, però non del tutto. Facciamo un salto indietro, questo è stato il primo congresso mondiale sulle origini fetali ed epigenetiche delle malattie. La mia relazione, come vedete, aveva questo titolo da cui avevo preso un po' le distanze, invece adesso non le prendo più le distanze, incoraggiato anche dal discorso di Horton. Cioè la mia domanda che mi ponevo è la cosiddetta teoria delle origini embrionali e fetali delle malattie croniche dell'adulto ha in qualche modo un senso, spiega le pandemie attuali, la pandemia di obesità, di diabete secondo, di disturbi del neurosiluppo, di malattie neurodegenerative e neoplastiche e la risposta avevo in qualche modo condensata in questo editoriale nel quale esaminavo, e adesso li vedremo un po' in dettaglio, i meccanismi che come vedrete non sono molto diversi da quelli che tutto sommato sono accennati nell'editoriale di Horton. Che cos'è la transizione epidemiologica in atto? Questo è un famoso articolo del New England Journal of Medicine del 2003 che fa vedere come negli ultimi 40 anni tutte le patologie acute erano andate, diciamo infiammatorie e in gran parte infettive o comunque immunoinfiammatorie erano andate a diminuire ma erano andate ad aumentare in modo assolutamente speculare tutte le patologie croniche infiammatorie e poi abbiamo visto anche neurodegenerative e tumorali. La spiegazione era stata inizialmente formulata in termini di alcune ipotesi come l'ipotesi igienica, non sto qui, non ho il tempo di entrare nei dettagli, come le ipotesi infiammatorie varie. L'ipotesi di Barker è diventata poi quella più importante, cioè qualcosa succede nei primi mille giorni di vita per cui i tessuti vengono programmati in maniera non del tutto corretta ed è tutta epigenetica come vedremo. Allora cosa significa tutto questo? Qualche mese dopo l'editoriale di Horton sul Wall Street Medical International Journal avevo pubblicato alcuni articoli, uno dei quali era questo, in cui dicevo guardate che quello che ci dice Horton è proprio questo, si stanno collegando le due epidemie. Da un lato l'epidemia diciamo delle patologie croniche che dobbiamo analizzare oggi e che è la tematica che mi era stata affidata e che adesso affrontiamo, ma dall'altro si sta collegando l'epidemia o pandemia da virus, da potenziali patogeni. Il SARS-CoV-2 purtroppo ci ha in qualche modo fatto capire che gli allarmi degli anni 97, 2010, 2020 erano fondati perché l'allarme di una possibile pandemia parte nel 97 con l'H5N1, cioè con i virus della viaria che come sapete sono comunque un grande pericolo e la possibilità che dei virus di questo tipo facciano lo spillover è enormemente aumentato da alcune realtà che vanno bonificate, non c'è verso, sono i grandi allevamenti intensivi, sono le megalopoli del sud del mondo in cui ci sono migliaia di pipistrelli che girano e che per una serie di abitudini che hanno da migliaia di anni sono pericolosi perché sono vettori di virus come Ebola, come Marburg e come i coronavirus cosiddetti Bat-Coronavirus e sono, e lo abbiamo visto, veramente pericolosi. Allora tutto questo cosa significa? Significa che se noi adesso vogliamo affrontare le patologie croniche infiammatorie che stanno dilagando dobbiamo fare diversamente da quello che abbiamo fatto nel campo delle pandemie acute. Prevenzione. Dobbiamo cominciare a ragionare, dobbiamo vedere cosa significa sul piano quantitativo la pandemia di obesità. Vi faccio scorrere rapidamente quello che è successo negli Stati Uniti. Guardate 85, guardate i colori, 2001, pensavo di averle messe in serie, sono tutte in realtà una decina di slide che fanno vedere come dall'85 al 2001 negli Stati Uniti si passa da una prevalenza di obesità del 7-10% a una prevalenza del 18-22%. Nel frattempo nel 2020 siamo arrivati al 35%. Un americano su tre è affetto da un'endocrinopatia sistemica grave che si chiama obesità. L'obesità non è il sovrappeso. L'obesità è una malattia in cui ipotalamo, ipofisi, surrene, tessuto adiposo, tessuto muscolare non funzionano come dovrebbe, c'è un'infiammazione cronica. Quindi una malattia che sta dilagando si spiega con l'alimentazione solo in modo indiretto. Non è l'alimentazione sbagliata, è quello che è successo, se vogliamo, nella generazione precedente. È questo che dobbiamo cominciare a capire e che dobbiamo cominciare a intercettare appena possibile. Non sono l'obesità, non riguarda le persone esposte da 30-40 anni a un cibo eccessivo, riguarda soprattutto i bambini e gli adolescenti. Perché? Perché i bambini negli Stati Uniti nascono con una programmazione epigenetica non corretta di tutti questi tessuti implicati, per cui per esempio hanno il doppio, il triplo di adipociti di quelli che dovrebbero avere, per esempio hanno l'ipotalamo che non risponde alla grelina, per esempio hanno la tendenza a reagire in maniera iperinfiammatoria a tutta una serie di agenti esogeni e poi sono bombardati di interferenti endocrini, cosiddette endocrine disruptors. Gli endocrine disruptors negli adulti sono tali, nel feto, nel bambino sono pseudomorfogeni, sono molecoli che disturbano la programmazione epigenetica dei tessuti. Ora tutto questo nella letteratura ormai è chiarissimo, bisogna traslare i dati della ricerca finalmente nella medicina. Ma perché non ci si riesce? Perché è la medicina territoriale da rafforzare, è la medicina della prevenzione, per questo mi volevo collegare con quello che abbiamo appena sentito. Se non si comincia a pensare in termini veramente, e che cosa abbiamo fatto in Italia, ma non solo in Italia? Abbiamo indebolito il sistema sanitario nazionale, abbiamo indebolito la medicina territoriale, abbiamo la metà dei posti letti di vent'anni fa, abbiamo le terapie intensive più deboli rispetto a dieci anni fa e lo abbiamo visto. Allora se la pandemia ha avuto mutilità è perché ci ha finalmente fatto capire che era vero quello che dicevano i vari Macacaro, Terracini, 40 anni fa. Puntiamo sulla medicina territoriale, puntiamo sulla prevenzione, altrimenti continueranno a aumentare queste patologie. Questo è il diabete secondo. Il diabete secondo per cui ha studiato medicina era fino a 40 anni fa una malattia degli anziani o quantomeno della seconda o terza età. è diventato una patologia degli adolescenti negli Stati Uniti e sta succedendo la stessa cosa da noi e con meccanismi diversi anche nel diabete primo. Anche il diabete primo sta aumentando soprattutto nei giovanissimi. Questa è la linea continua di aumento dell'obesità e del diabete. Noi lo abbiamo analizzato a più riprese e abbiamo visto che quello che succede in questa fase della vita è fondamentale. Questa è una regola che vale per tantissime patologie di cui dobbiamo parlare. Scusate che cerco di capire meglio se cerco, se c'è il puntatore. Vedete qual è il punto chiave? Il punto chiave è che quel bimbo che sta nascendo si sta formando in utero ma sta formando anche i gameti, il che significa che l'esposizione per esempio a degli interferenti endocrini nella prima fase della vita va a slatentizzare la tendenza a programmare in maniera non corretta quello che sono alcuni tessuti addirittura nelle generazioni successive. Quello è successo negli Stati Uniti, quello sta succedendo adesso anche in Europa con un ritardo tra virgolette di vent'anni perché da noi ancora non è successo quello che è successo negli Stati Uniti. Lo semplifico negli anni 80-90 dove costava quattro volte in più l'acqua rispetto alla Coca-Cola, per esempio. Esempio estremo. Le mamme in gravidanza bevevano la Coca-Cola perché non costava nulla. L'acqua minerale costava molto di più ed erano convinte di fare il bene dei loro bambini. Questo è l'esempio emblematico di una serie di errori. Questo vale però per tantissime patologie. Guardate le allergie. Le allergie di primo tipo sono passate da una prevalenza dell'1-2% circa un secolo fa al 20-24% nel nord del mondo. E vale per le malattie autoimmuni. Perché? Per esempio perché la mamma che non sa che il fumo di sigaretta va a cambiare le popolazioni linfocitarie nell'embrione e nel feto. Quindi poi questo embrione è destinato a iperreagire. Che cos'è l'allergia? Cosa sono le malattie da ipersensibilità? Sono una iperreattività del sistema immunocompetente. In questi articoli si dice che perfino le patologie cronico-struttive dell'anziano sono patologie pediatriche. È un modo semplice per dire che appunto comincia sempre più presto. Questa predisposizione che non è genetica ma è epigenetica a iperreagire nei confronti di tantissimi stimoli. Guardate la celiachia. Sta aumentando la celiachia? Tutti dicono sta aumentando la celiachia. Non è esatto. La celiachia non può aumentare o quantomeno non può aumentare così rapidamente. Perché la celiachia è una malattia immunogenetica. Cioè sono dei polimorfismi sul cromosoma 6, quindi sul sistema maggiore di stoccompatibilità, che determinano una iperreattività al glutine. Allora cosa sta aumentando? La gluten sensitivity. Cioè la tendenza a reagire al glutine perché l'ecosistema microbico è sempre più alterato, perché c'è una flogosi degli epiteli, perché gli epiteli fanno passare le proteine. Si chiama leaking proteico perché le cellule si distanziano a causa dell'infiammazione. Quindi cosa sta aumentando? Un disturbo epigenetico meno grave di quello genetico ma molto più frequente. Questa è questa transizione epidemiologica. Ma i due ambiti in cui è aumentata la nostra allerta, quelli sicuramente più importanti, sono quello delle neoplasie, del cancro. Scusate se vi do queste notizie, ma sono tutte notizie di epidemiologia ormai note a livello di letteratura mondiale e che dovrebbero essere più conosciute, per esempio, da parte dei nostri politici, che dovrebbero essere più informati su queste cose, questo tipo di incontri e di alleanze servono a questo, perché perfino tra i medici questo tipo di notizie ancora non circola come dovrebbe. Questo è stato il secondo congresso mondiale sulle origini epigenetiche delle malattie ed ecco che la mia relazione era sui tumori, sul cancro. Non so se sapete che ormai una persona su due in Europa fa un cancro. Una persona su due fa una malattia che fino a un secolo fa era letteralmente rara e colpiva solo le persone esposte per motivi occupazionali. Invece non è più così e soprattutto l'aumento, e questo veramente molti non lo sanno, è in età giovanile, non è più come una volta negli anziani, non sono l'accumulo lento delle mutazioni stocastiche del DNA, è qualcosa che avviene nella prima fase della vita. E non sono i tumori classici quelli che aumentano. Certo, rimane il carcinoma polmonare, rimane il carcinoma mammario come tumori leader, ma per esempio il carcinoma del colon retto fino a vent'anni fa era una patologia rara ed è evidente che legata all'alimentazione o tutto quello che c'è negli alimenti, è evidente che c'è una flogosi dell'epitelio del retto o dell'ultima parte del colon che apre la strada una serie di modifiche. Ovviamente sto andando per sommi capi, tanto la cosa importante è che capiamo insieme che bisogna fare qualcosa, visto che stiamo ancora in tempo. L'aumento maggiore dei tumori è nei paesi, diciamo, del terzo mondo e questo ha una serie di motivazioni che non possiamo stare qui ad approfondire, ma è soprattutto nelle grandi città, le megalopoli, che non solo sono esposte ai pipistrelli, ha una serie di situazioni allucinanti che determinano l'aumento della flogosi nel bambino e aumenta soprattutto nei bambini. Questo è evidente non solo da questo grafico che si interpreta male, ma se noi lo andiamo a vedere un po' meglio, vedete l'aumento costante negli ultimi 25-30 anni e se andiamo a vedere meglio le prossime due slide ci dicono due cose importanti. La prima, il cancro è diventato nell'infanzia la prima causa di morte per malattia. E guardate che non è la leucemia linfoblastica, la cosiddetta common, che noi abbiamo essenzialmente ormai sotto controllo, l'85% dei casi vengono curati grazie al fatto che comunque la terapia va avanti e migliora enormemente ogni anno, ma riguarda altre forme neoplastiche che sono residui embrionari, per esempio il rabdomiosarcoma, il neuroblastoma, il retinoblastoma, patologie rarissime fino a pochi anni fa. Adesso il neuroblastoma è diventato il 5-6% dei tumori infantili e stiamo parlando di una patologia che colpisce un bambino su 600. Quindi è cambiato tutto. E notare che sono patologie diverse. Nell'adulto sono i carcinomi che dominano, nel bambino sono le forme oncoematologiche ed embrionarie. Allora, cosa sta succedendo? In questo, che è stata la più grande ricerca epidemiologica in Europa, si vede che il grande aumento del cancro infantile è nel primo anno di età. Chi se lo aspettava? Ma soprattutto questo non è solo qualcosa di drammatico, è qualcosa che fa capire che non è un lento accumulo di mutazioni, è qualcosa che sprogramma i tessuti e gli organi del feto. Quindi capite che è un po' sempre lo stesso discorso. Nel 2019 viene la conferma, viene la conferma che non si tratta tanto di leucemie. Io ho la possibilità in due articoli di proporre una lettura diversa, che ovviamente è epigenetica del cancro e non genetica, non mutazioni casuali. Il cancro non è un incidente biologico. Il cancro è una reazione dei tessuti a tutta una serie di, chiamiamole, interferenze o addirittura bombardamenti vari. E chiaramente sta diventando precoce. E l'altro grande ambito di preoccupazione sono i disturbi del neurosviluppo. Lancet, ancora una volta, e sottolineo che sono i giornali più importanti del mondo, questo è Lancet 2006, un pediatra e un epidemiologo parlano di una pandemia silenziosa di disturbi del neurosviluppo. E mettono un titolo un po' provocatorio come quello di Horton. E cioè dicono, developmental neurotoxicity of industrial chemicals. È eccessivo forse dire che solo le sostanze tossiche prodotte dall'industria. È un discorso più generale. È quello che abbiamo visto, che Horton sottolinea, è l'infiammazione legata alla continua esposizione. I due autori fanno vedere che non vengono studiate queste cose. Noi conosciamo pochissime sostanze tossiche. La gran parte sono metalli pesanti, dopodiché in realtà le sostanze neurotossiche, i pesticidi, per esempio, sono ovunque. E sono pochissimo studiati, tranne dall'epidemiologo e dal tossicologo, ma è letteratura che rimane nel circuito specialistico. Ora, tutto questo è importante. Se voi andate a vedere la rapidità con cui sta aumentando, per esempio i disturbi di spettro autistico, che sono quelli più importanti, più gravi, anche qui vado per sommi capi, sapete che le forme di disturbi del neurosviluppo sono tantissime, ma proprio i disturbi di spettro autistico stanno aumentando più di tutti. I dati sono questi. Ed è interessante questa slide, perché fa vedere come per 30 anni, andando retrospettivamente ad andare a guardare i dati che avevamo, noi non avevamo nessun aumento negli anni 60, 70, 80. Comincia tutto negli anni 80, 90. United Kingdom, United States, quindi Europa come Stati Uniti, il CDC di Atlanta, dal momento in cui ci si rende conto di questo rischio, si comincia a valutare sul piano diagnostico in maniera molto più attenta, per cui l'ipotesi che potesse essere un miglioramento diagnostico comincia a diminuire via via che si vede che invece siamo capaci di fare diagnosi non abbastanza precoce, ma relativamente precoce. Voi sapete che le reti neuronali del bambino si formano essenzialmente nei primi mille giorni di vita. Il resto è importante, ma già intorno al secondo anno il connettoma del bambino è essenzialmente formato. Ebbene, cosa sta succedendo? I dati dei CDC parlano di un bambino su 1.540 anni fa, un bambino su 150, 20 anni fa, un bambino su 88, una dozzina di anni fa. Poi si va avanti, i due autori di prima su Lancet Neurology fanno vedere come nelle aree in cui ci sono, si usano molto i pesticidi, con l'elicottero, sapete che li spandono anche nell'atmosfera, o di grande inquinamento atmosferico, c'è un raddoppio del raddoppio. Si arriva a un bambino su 59 nel 2018, negli Stati Uniti c'è una grande ricerca su Pediatrics, Pediatrics è il più importante giornale di pediatria del mondo, si parla di quasi un bambino su 40, ed è una ricerca su un milione e mezzo di bambini americani, ed ecco i risultati definitivi, o quantomeno gli ultimi pubblicati a dicembre dell'anno scorso, che dicono essenzialmente noi abbiamo diagnosi di autismo in un bambino su 44. Ricordiamoci che era un bambino su 2000. Ora, si può fare qualcosa, si può fare enormemente, perché se è vero che l'esposizione iniziale della diade materno-fetale, con Daniela da alcuni anni lavoriamo essenzialmente su questo, perché andiamo molto in giro a fare formazione e informazione, che siamo convinti che in quei primi mille giorni si può fare la differenza. Non è la diagnosi o la terapia che fa la differenza, è la prevenzione ed è attenzione massima ai primi mille giorni di vita. E a questo punto, ovviamente, sto correndo, ma per darvi un po' l'idea, c'è un overlapping chiarissimo, non sono solo i disturbi di spettro autistico, sono gli ossessivo-compulsivi, sono gli ADHD, sta aumentando il quadro delle malattie neuropsichiatriche maggiori, e qui i cosiddetti primi mille giorni sono importanti per l'autismo, ma i secondi mille giorni, i cosiddetti giorni dell'adolescenza, sono altrettanto importanti, perché quello che succede nelle reti neuronali dell'adolescente oggi è un grande mistero. Sono tutti esposti a tutta una serie di situazioni e sollecitazioni che non sono naturali. Quindi in quel momento delicatissimo partono una serie di reazioni, diciamo, che non possiamo spiegare in poche parole, ma vi faccio notare che anche nei meccanismi neurobiologici questi quadri, pur essendo molto diversi, hanno delle coincidenze significative. In particolare sul piano epigenetico e genetico. Non posso entrare nei dettagli, ma insomma, cosa succede nel genoma, nel feto, nel bambino piccolo e poi nell'adolescente? E soprattutto, più lo studiamo e più lo vediamo, addirittura nei gameti dei genitori. La gran parte delle coppie number variants che noi troviamo nell'autismo e nella schizofrenia non sono presenti nei genitori. Si trovano nel bambino e nei gameti del padre, di solito, e alcune volte della madre. Quindi c'è qualcosa che sta disturbando, per esempio, fin dall'inizio della vita, questo formarsi del software epigenetico. Ora cerchiamo di capire insieme che cos'è. Questo è l'aumento dei disturbi dell'umore, questo è l'aumento della depressione major, questo è soprattutto l'aumento, e lo sappiamo, credo, tutti dell'Alzheimer. L'Alzheimer era una patologia rarissima 50 anni fa. Si parla dello 0,5% delle autopsie. Oggi abbiamo 1.200.000 casi in Italia, circa. Ecco, questa è la differenza. Allora, ancora una volta, si può fare qualcosa enormemente, perché anche in questo caso non è la vecchia genetica lineare, ci sono le mutazioni, c'è niente da fare. Non è così. Vedremo che tutto questo è legato a una serie di esposizioni che si stanno studiando, sta cambiando il modello. C'è un cambio di paradigma in atto. Non è più il DNA che comanda. Il DNA è parte di un gioco complesso. È molto importante il software del DNA, che si chiama epigenoma, che si forma all'inizio della vita. È molto importante, sono concetti fondamentali nell'ambito della ricerca, ormai c'è un accordo trasversale. È importante il microbioma intestinale, è importante il cosiddetto ologenoma, cioè i genomi che ospitiamo dentro di noi, compesi quelli degli ecosistemi microbici, è importante, scusate queste parole un po' antipatiche, ma adesso le spieghiamo un po' in breve, il pangenoma. Che cos'è il pangenoma? È il DNA complessivo dell'individuo, che si forma durante la vita. Cioè, il paradigma sta cambiando. Noi abbiamo un DNA che ereditiamo dai nostri genitori, e quello rimane grossomodo simile, ed è quasi uguale in tutti noi. A vederlo meglio, il progetto Genoma ci ha insegnato, che il DNA è quasi uguale nello scimpanzé e nell'uomo. Ma poi c'è un software del DNA, che invece è molto diverso in ognuno di noi. C'è questa possibilità da parte del genoma di avere una seconda memoria. E questa seconda memoria si forma all'inizio della vita. Ed è importantissimo lavorare, perché si forma in maniera corretta. Quindi, come capite, quello che vi stiamo un po' raccontando, ormai da una quindicina d'anni, è che si può fare molto. Bisogna, però, cominciare a ragionare, non in termini soltanto di cura, non soltanto di diagnosi e terapia, ma, e lo sottolino, di prevenzione, che si può fare se c'è un sistema sanitario che spinga verso quella direzione. Il DNA non sbaglia. Il DNA ha 4 miliardi di anni. L'idea che il DNA faccia errori è un'idea fondamentalmente sbagliata. Il DNA fa anche delle mutazioni stocastiche, ma ha tutta una serie di meccanismi di riparazione che hanno funzionato per miliardi di anni. È quello che li sta inceppando, che dobbiamo cercare di capire insieme. Allora, dobbiamo uscire da questa logica un po' riduzionista, e che cos'è che in fondo ce l'ha insegnato? Proprio Progetto Genoma. Progetto Genoma, che è il più grande progetto di ricerca in biologia, in genetica molecolare, ci ha insegnato a capire che questa figura, che sembra corretta, in realtà non è corretta. Guardate, questo è il cromosoma 1. Le sto dicendo ancora una volta in maniera un po' semplicistica, però è intuitivo. Qual è l'errore di questa foto che vediamo lì? Che è un disegno. Ci dice che il cromosoma 1 è quello più grande, ha 1700 geni. Ma chi lo vede pensa che i geni siano la parte più importante. Ebbene, i geni sono l'1,4% della sequenza. Quello che non si vede in questo disegno, il 98,6%, che è stato lungamente sottovalutato, si parlava di junk, di spazzatura, come se il genoma avesse dentro di sé una parte inutile. Invece più si studia e più si capisce che i geni sono importanti, ma sono quasi uguali in tutti noi. Il 98,6% invece è la parte dinamica del genoma ed è quella che va in qualche modo studiata. Per esempio, il progetto Genoma ci ha fatto vedere che i mammiferi hanno un piccolo genoma rispetto ai protozoi. I protozoi sono degli esserini monocellulari, hanno un grande DNA. Perché? Lo abbiamo perduto? No, si è semplificata quella parte, perché noi abbiamo un software molto più potente. Capite? È sempre un po' la differenza. Quindi dobbiamo smetterla di pensare in termini DNA centrici e riduttivi. Dobbiamo capire che non è un caso se è Homo sapiens, quello è il cucciolo di Homo sapiens, c'è a grosso modo 20.000 geni, come il Caenorhabditis elegans, che è un vermino di un micron. E invece la piantina di orzo, per esempio, c'è a 40.000 geni. Non è lì la differenza. La differenza, ripeto, ed è importante che lo capiamo insieme, è nel software. Perché tutto questo è importante? Ora lo vedremo perché. Perché mentre il DNA si eredita e su quello c'è poco da fare, il software si forma nei primi mille giorni. Si forma essenzialmente nell'embrione, nel feto, nel bambino, sulla base delle informazioni che arrivano. E le informazioni cosa sono? La nutrizione, addirittura la nutrizione della madre. Sono l'aria che respiriamo e che respira la madre e che in fondo manda tutta una serie di informazioni al bambino. Questa è la differenza enorme tra il Caenorhabditis elegans, che è questo vermino e noi. Il vermino che vedete qua ha grossomodo gli stessi geni nostri, qualche migliaio in meno. Ce ne ha 18.000 e noi ne abbiamo 22.000 o 21.000. Questa è evidente, che non è qui la differenza. Il fenotipo del vermino è uguale in tutti i vermini. In noi, invece, c'è qualcosa di enormemente più complesso che non è chiuso e scritto nel DNA, ma che si forma. I più importanti giornali di genetica molecolare del mondo, come questo, a un certo punto, dopo la seconda parte di progetto Genoma, che si chiama ENCODE, si chiedono ma esiste il gene? Il gene non esiste come tale, non è un'unità discreta. Nel nostro genoma ci sono solo 20.000 geni, ma questi geni vengono utilizzati da ogni cellula sulla base del software in migliaia di modi diversi. Quindi studiamo il software. L'hardware, tutto sommato, non cambia, ma il software sì e come. Cambia anche l'hardware, come vedremo, ma il software è molto più importante. Da quando lo abbiamo capito, questo? Ed è venuta l'ora di insegnarlo perfino nelle scuole, a mio parere, di farlo diventare cultura dominante, perché purtroppo ci sono grandi interessi che non ci portano a capire tutto questo. Invece dobbiamo capire. questo è stato il primo grande articolo, nemmeno nella mia vita o nella vita di alcuni con cui lavoro, che ci ha aperto in qualche modo gli occhi. Questo è Adam Wilkins, è un grande biologo molecolare che nel 97 scrive un articolo su BioEssays. Era editor in chief di questa rivista molto specialistica. Cosa dice Adam Wilkins? Dice, ma come mai i fisici teorici hanno cambiato completamente il loro modo di vedere? non esiste più il limite legato a una fisica riduzionista un po', che serve anche ma non è più la base della visione dei fisici. È cambiata con la relatività, è cambiata con la fisica quantistica, perché la biologia continua a essere riduzionista? Dopo due o tre mesi su Nature Biotechnology, altro giornale importantissimo, un altro biologo molecolare dice, sì, è vero, stiamo sbagliando, noi ragioniamo in termini di DNA, RNA e proteine, che è solo un pezzetto del gioco. Noi dobbiamo capire che in realtà quello fa parte del gioco, ma non è il gioco, questo che è stato chiamato lungamente il dogma di Crick e che viene insegnato ancora come tale, non esistono i dogmi in campo scientifico, è solo una piccolissima parte del gioco. Cosa ci dice? Ci dice, l'informazione va dal DNA all'RNA alle proteine, but never backwards, non può tornare indietro. Ebbene, non funziona così. dal momento in cui abbiamo cominciato a capire tutto questo, Stroman, per esempio, e questo siamo vent'anni fa, vent'anni fa, in questo ambito di cui vi sto raccontando un po' la storia, è un'era. In vent'anni è cambiato il mondo, non possiamo più ragionare come vent'anni fa. Cosa dice Stroman su Nature? Stroman dice, guardate che cos'è il genoma, non è il DNA, il DNA è solo il database, è un sistema complesso, noi abbiamo trilioni di cellule in cui c'è questo sistema complesso che ha un software, questi geni tra di loro in un certo senso parlano, si accendono e spengono a vicenda, questo è una sorta di piccolo computer il genoma, non è una linea, non è un dizionario, il dizionario è il DNA, ma il computer lavora in maniera diversa. Allora, su questa base, lo studio che abbiamo ormai in tutti i laboratori si fa, cercare di capire ma come avviene che l'informazione che portiamo dentro al sistema cambia il sistema, non è che cambia il sistema, è il sistema che impara, questa è la parola chiave, gli esseri viventi imparano a tutti i livelli, come avviene nel cervello, così avviene nelle cellule, così avviene nel piccolo computer dentro di noi. I dogmi, e questo lo dico molto rapidamente e con il grande rispetto, il dogma di Weissman, il dogma di Crick, il dogma di Darwin inteso in maniera rigida, le mutazioni stocastiche e la natural selection, hanno avuto un ruolo importante per 50, 100 anni, ma non funziona così. Ormai sappiamo che l'evoluzione, l'ontogenesi, la filogenesi, lo sviluppo del feto non seguono queste regole rigide, non è scritto tutto nel programma, perché c'è questo benedetto software. E adesso finalmente ve lo faccio vedere come funziona il software, questa epigenetica. L'epigenetica è lo studio del software, non si studia più la sequenza, si cerca di capire come tutto ciò che forma l'ambiente in cui viviamo fin da bambini piccolissimi interferisce sul software epigenetico delle nostre cellule. Non lo danneggia, è sbagliata l'idea perfino meccanicistica, è raro che ci sia il danno. Perché? Perché l'epigenoma è in grado di ricevere informazioni e di elaborarle, di processarle, di trasformarsi, di comunicare. È una visione sistemica molto diversa. La figura di destra non è sbagliata, ma è riduttiva, perché in realtà quella di sinistra vi fa vedere già molto meglio a grande ingrandimento come funziona. C'è ogni millisecondi, in ogni cellula, c'è un pezzetto di DNA che viene letto e trascritto, non sulla base di quello che è scritto dentro, ma sulla base della informazione che gli arriva. Allora, noi stiamo cercando da alcuni anni di capire come funziona questa macchina. e quello che ormai sappiamo è che funziona in maniera totalmente diversa, non come nel dogma di Crick, from DNA to RNA to proteins but never backwards. Assolutamente no. Il sistema invece riceve l'informazione, l'informazione gliela diamo noi, gliela diamo nella misura in cui mangiamo più o meno bene, respiriamo aria più o meno pulita, beviamo acqua più o meno, capite? Viviamo emozioni più o meno corrette, perché è chiaro che lo stress, per esempio, persistente e cronico, comanda segnali che vengono letti, tra virgolette, dal sistema che deve difendersi. Allora, in questo modo, visto in questo modo molto più dinamico, non ha importanza che ognuno conosca i dettagli e sappia come agiscono, ma immaginatelo questo DNA iperavvolto attorno a quelle proteine che si chiamano istoni. Quello che è importante è che in realtà tutte queste parti, vedete quelle sigle là sopra, sono enzimi, iston acetiltransferasi, istonde acetilasi, iston acetiltransferasi, ha un'importanza solo per il tecnico, ma per il non tecnico è importante capire che questo sistema funziona da 3 miliardi di anni e funziona perché ha imparato in 3 miliardi di anni a leggere le informazioni che arrivano e si trasforma continuamente sulla base di queste informazioni. Se arriva il segnale, chiamiamolo corretto, semplifico al massimo, vedete la zona verde, gli istoni dicono al sistema apriti, funziona così. Arriva il segnale sbagliato e adesso vediamo cosa significa e per esempio vengono metilati e chiusi degli istoni. A quel punto il gene viene segnalato e può aprirsi o chiudersi e se vengono metilate alcune zone del gene, la cosiddetta metilazione della sequenza promotora, il gene non funziona più. Ma non funziona a caso, questo sistema è di grande complessità ma ha una sua capacità di interpretare i segnali e di funzionare di conseguenza. Non è nulla di stocastico. Se Darwin fosse oggi qui, se fossero i neodarwinisti degli anni venti con noi, sarebbero contentissimi di studiare le cose così. E questo che è assurdo, continuare a essere fossilizzati in un modello che 70 anni fa aveva un valore ma adesso non funziona. Allora, gli istoni, queste proteine, hanno come delle antenne, vedete, questi si chiamano gli stone tails, ogni istante noi respiriamo ossigeno, azoto, anidride carbonica, gas rari, come abbiamo fatto per milioni di anni. Il problema è che noi respiriamo anche particolato ultrafine, metalli pesanti, benzantracene, che non c'erano per milioni di anni. Quindi cosa fa? Il sistema reagisce e reagisce in qualche modo cercando di prendere degli accorgimenti difensivi. Non ha niente di casuale tutto questo. È importante conoscerlo ed è importante capire le metilazioni come funzionano e perché, per esempio, si dice il cancro è basato su metilazioni eccessive dei geni oncosoppressori. Non sono metilazioni eccessive, è che quei geni controllano la proliferazione cellulare e vengono bloccati da certi inquinanti. Quindi quello che succede non è un incidente, è il prodursi progressivo di una serie di modifiche che sono potenzialmente reattive, difensive e che possono diventare pericolose se continuiamo a mangiare quello che non dobbiamo. Vedete i fattori? I fattori sono questi, le informazioni che arrivano nel sistema dipendono dal fatto che mangiamo e ovviamente da piccolissimi, per esempio, difendono dal fatto che noi usiamo o meno l'allattamento che abbiamo usato per milioni di anni. Il latte materno è pieno di fattori epigenetici importantissimi. Le cellule staminali sono solo nel latte materno, non c'è nessun latte adattato che ha le cellule staminali della madre e così vale per tutta una serie di proteine che sono solo lì e così andando avanti semplificando al massimo ci siamo mossi correndo per le savane per centomila anni come Homo sapiens cacciatori raccoglitori ma per sei milioni di anni con i nostri cugini precedenti a noi adesso stiamo seduti al computer otto ore al giorno. Capite che questo manda dei segnali diversi. Ora io non dico che dobbiamo tornare a vivere come i cacciatori raccoglitori però teniamone conto di tutto questo e queste non sono cause sono con cause cofattori ed è chiaro che se noi respiriamo come dicevamo benzantrascene e metalli pesanti tutti i giorni questo non fa altro che scompaginare il sistema. Allora andando avanti e per fare l'ultima parte come avviene allora che si costruiscono questi quadri patologici non è più come nel vecchio schema genetics DNA mutazioni casuali è epigenetics c'è qualcosa che è una sorta di software quando si forma punto 3 e punto 4 nell'embrione nel feto nei primi mille giorni si chiama fetal programming la capacità dell'embrione e del feto di rispondere alle informazioni che gli arrivano posizionando più o meno bene quei gruppi che avete visto metinici eccetera quindi programmandosi in maniera più o meno corretta quel soggetto che vedete al centro questo dilagare di obesità non è perché lui beve coca cola troppo ma perché l'hanno bevuta troppo i suoi genitori di fatto quello che succede è che l'epigenoma scorre da una generazione all'altra se adesso stoppiamo una serie di fattori noi vedremo che i figli e i nipoti non hanno più questo tipo di problemi questo si chiama teoria delle origini fetali delle malattie e si chiama transizione epidemiologica allora tutto questo capite è molto pratico in realtà quando si dice la malattia la malattia è un incidente la malattia ha 30% di case genetiche 30% di cause epigenetiche 30% di case non è così non è così non c'è nessun cambiamento del nostro fenotipo che non sia al 100% condizionato dal DNA al 100% indotto dall'ambiente al 100% modulato dal software epigenetico non sono in alternativa lavorano insieme ma è chiaro che se le informazioni che vengono dall'esterno sono sbagliate il sistema comincia a programmarsi in maniera sbagliata lì durante la vita a embryo fetale allora tutto questo ha un'applicazione pratica bisogna tener conto questo è lo schema lo zigote ognuno di noi si forma in utero da un'unica cellula se ne formano trilioni tutte hanno lo stesso DNA ma tutte devono formarsi il software e questo software si forma secondo se siamo esposti a una tra virgolette serie di segnali che ci informano correttamente altrimenti è un guaio e tutto questo significa che se noi andiamo a vedere dopo 50 anni il DNA di due gemelle lo troviamo uguale ma se noi andiamo a vedere il software epigenetico è molto diverso se una ha vissuto in un'area più o meno diciamo integra ovvero ha vissuto nella periferia di città del Messico o di Nuova Delhi noi siamo stati a Nuova Delhi per un congresso io sono convinto che lì fra 20 anni vedrete un disastro assoluto perché non si può vivere non c'è più niente di natura c'è solo inquinamento e basta e allora tutto questo cosa significa? Significa che noi dobbiamo non solo studiare questa parte ma poi applicarla cioè è inutile che noi capiamo nelle nostre ricerche che il neurone è una cellula totalmente diversa da linfocita pur essendo venuta dallo stesso zigote quindi avendo lo stesso DNA noi dobbiamo capire quello che avviene nel neurone nella prima fase della vita più o meno correttamente e che crea le reti neuronali più o meno disturbate nei bambini autistici e dobbiamo capire che il linfocita idem il neuroblasto e linfoblasto sono quasi uguali poi cambia che cosa cambia? cambia la memoria cambia il software epigenetico e per capire questo in questa ultima parte vi faccio vedere il lavoro che stiamo facendo in particolare con un nostro amico embriologo di grande livello che è un professore merito di embriologia Gianfranco Tajana perché è fondamentale capirlo lo schema di base è questo da un lato vedete a sinistra il DNA e il cervello il DNA e il cervello sono il prodotto della filogenesi sono quasi uguali in tutti noi non è lì il problema il problema è che poi si forma in ogni cellula un software che si chiama epigenoma e le reti neuronali all'interno del cervello quelle sono diverse in tutti noi la nostra individualità è a destra il nostro fenotipo che può essere più o meno formattato in maniera corretta riguarda la parte destra i disturbi del neurosiluppo le malattie neuropsichiatriche non sono malattie del cervello sono malattie sono disturbi delle reti neuronali che vengono programmati in maniera disturbata capite perché si può fare molto perché in realtà e questo adesso ve lo faccio vedere in dettaglio è quasi tutto epigenetica è quasi tutto informazioni che possiamo cambiare tutto quando si dice si può fare prevenzione guardate questi sono disegni però credo che siano abbastanza chiari abbiamo l'embrione poi il feto nel feto si stanno formando le cellule le cellule embrionarie sono tutte uguali come vedete sono totipotenti o meglio lo zigote è totipotente poi diventano multipotenti poi cominciano a differenziarsi come avviene queste modifiche che fanno sì che si formano i neuroni e la glia che costruiscono il sistema nervoso avviene nelle nicchie dove sono queste cellule staminali e avviene per tre meccanismi di base che sono la proliferazione delle cellule la migrazione delle cellule non sempre riesco ecco qua è il differenziamento questi tre passaggi sono tutti su base epigenetica non è scritto nel DNA come deve quanto deve proliferare un certo settore del sistema nervoso come si deve differenziare una cellula se deve diventare un neurone una glia o che tipo di cellula gliale o che tipo di neurone sapete che non ci sono due neuroni uguali sapete che ne abbiamo 84 miliardi nella sola corteccia di neuroni e ognuno di questi ha da 1500 a 12.000 sinapsi in media immaginate la complessità ecco tutto questo non è scritto nel DNA non potrebbe oltretutto perché si tratta di una quantità di dati e di informazioni enorme e da dove viene viene da questo cioè dal fatto che i segnali quelli che nell'adulto sono gli ormoni o le citochine come proteine infiammatorie sono le proteine segnale che nell'embrione dicono alle cellule dove devono andare come devono fare ora ve lo faccio vedere in modo semplicistico questo è l'epigenoma dei neuroni e della glia l'abbiamo visto poco fa nello schemino ora lo vediamo nella realtà che cosa succede è ovviamente è semplicistico ma è interessante immaginatevelo così all'inizio della vita nella corteccia cerebrale dell'embrione e del feto già intorno al terzo mese quindi quello che è la parte più importante la neurogenesi avviene fin dall'inizio la sinaptogenesi comincia già alla fine del secondo mese quindi nel feto già come ce lo dobbiamo immaginare il neurone come nella cartolina lì a destra no assolutamente no un grande neuroscienziato una ventina di anni fa disse il neurone immaginatelo come un ragno immaginate milioni di ragni che stanno camminando si fanno loro stessi l'altela su cui devono camminare comunicano tra di loro ricevono i messaggi capiscono devono andare sulla base dei messaggi perché hanno un sistema di navigazione interno hanno imparato in milioni di anni a fare tutto questo attenzione però perché se gli arrivano i messaggi sbagliati chiaramente vanno in confusione e il modo in cui noi l'abbiamo rappresentato ovviamente questo è il cervello di un topolino non è il cervello di un bimbo ma è la stessa cosa avviene nello stesso modo e abbiamo visto che per esempio certe frequenze di campi elettromagnetici disturbano la migrazione e abbiamo visto più in generale che tutta una serie di molecole possono disturbare il modo in cui questi segnali arrivano e vengano recepiti come queste sono due figure che ha fatto il nostro amico Gianfranco Tajana che secondo me sono veramente fantastiche possono essere discutibili come valore scientifico ma sono abbastanza icasti che rimangono impresse cosa fate voi domani se vi trovate questa strada uscendo di casa e questa segnaletica che viene subito dopo fermate la macchina e andate a piedi ora chiaramente i neuroni non fermano la macchina continuano ad andare avanti e devono trovare soluzioni alternative ecco perché si creano dei loop ecco perché poi a un certo punto uno dice ma cos'è il bambino che ha problemi del neurosviluppo ha le stereotipie ha i comportamenti ripetivi sono dei cortocircuiti al loop si trovano perfino con la risonanza magnetica anche se è difficilissimo interpretarli ancora allora tutto questo vogliamo aspettare di avere le prove e di avere tutta la documentazione o cominciamo adesso a occuparci di questa diade fondamentale in quella prima parte della vita eppure noi tutto questo lo dobbiamo seguire indirettamente riguarda letteralmente i primi mesi se noi andiamo a vedere in questo schema e già ci dice molte cose già alla quinta settimana vedete che la struttura globale del feto è grossomodo in posizione ma quello che colpisce è la rapidità con cui aumentano le dimensioni ora noi abbiamo un bambino su dieci che nasce prematuro ormai sapete anche questo penso un bambino su dieci significa che fa la gran parte della duplicazione vedete la formazione di quelle circonvoluzioni cerebrali si formano nell'ultimo mese quindi è un bambino che formerà comunque le sue circonvoluzioni fuori dall'utero con informazioni totalmente diverse allora tutto questo è secondario più lo studiamo più siamo convinti che è importantissimo e più lo studiamo più siamo convinti che è importante il pruning cioè la corretta ripulitura delle sinapsi e questo avviene in due periodi fondamentali i primi mille giorni e durante l'adolescenza ecco perché sono i due periodi caldi sono i periodi in cui c'è il massimo di cambiamento del sistema e se noi andiamo a vedere questa figura che è un po' difficile da leggere perché non è in scala vedete i primi due anni sono quelli che contano di più perché il connettoma a due anni è praticamente formato allora su questa base e la ricerca in tutto questo ci ha chiarito tantissimo le idee dobbiamo cominciare a studiare un po' di più l'esposoma che cos'è l'esposoma dal 2005 circa la IARC grazie anche e soprattutto a Renzo Tomatis che è stato il direttore della IARC e io lo ricordo ogni volta perché per me è stata una sorta di maestro di fatto ha messo in campo una serie di monografie che riguardano lo studio di tutti i fattori che possono danneggiare o quantomeno arrecare una serie di danni ormai c'è anche qui una letteratura sterminata guardate del 2017 questo studio guardate come si vedono tutte le alterazioni della metilazione legate al fumo di sigaretta della madre ora ma non sarebbe tassativo insegnare che in quei mesi non si fuma molti gli dicono basta che non fumi troppo ovvero addirittura il fumo passivo in casa è importantissimo cambia le metilazioni dell'embrione e del feto ma diciamole queste cose insegniamole a scuola vale per gli aperitivi l'alcol è un tossico per l'embrione e il feto per una serie di motivi interferisce moltissimo sulle acetilazioni del DNA e sulle metilazioni la dieta sbagliata la carenza di acido folico ma attenzione l'acido folico deve essere dato alle dosi corrette prima della gravidanza e nei primi 2-3 mesi poi andrebbe regolato perché se si dice come succede questi pastoni multivitaminici tanto sono vitamine e fanno bene non è vero molti di questi con 10-20 ma chi lo sa come vanno a interferire sulle metilazioni quindi quello è un periodo che va bene studiarlo ormai lo abbiamo capito stiamo cercando di andare più a fondo ma noi dobbiamo trasmettere queste notizie se no rimangono così scienza non è scienza che si diffonde per esempio abbiamo visto e anche su questo c'è tanta letteratura che sia nell'autismo sia nella schizofrenia c'è l'anamnesi di infiammazioni persistenti nella madre perché le infiammazioni sono citochine e le citochine come abbiamo visto sono morfogeni per il feto quindi le infiammazioni persistenti e croniche devono essere curate prima della gravidanza e comunque devono essere in qualche modo monitorate e poi c'è il grande problema di quello che arriva al feto io ho lavorato per tanti anni da due anni con la covid non vado più e mi dispiace poi vedremo per il futuro con un istituto di Parigi che va in giro per il mondo a monitorare queste situazioni e vi faccio vedere rapidissimamente qualcosa questa è la placenta tipo la placenta tipo del nord del mondo è piena di sostanze epigenotossiche sono centinaia di sostanze che disturbano la programmazione dell'embrioma del feto non abbiamo più dubbi sul fatto che quello che sta succedendo è legato a questo le placente le abbiamo buttate via non le abbiamo studiate fino a pochi anni fa eppure sono la cabina di regia della programmazione fetale allora su questa base vi dicevo per esempio siamo stati in Martinica negli ultimi 15 anni varie volte perché perché in Martinica che è un piccolo paradiso dell'oceano atlantico c'è il record mondiale di calcinoma della prostata c'è un aumento continuo di disturbi del neurosviluppo e di malattie metaboliche come mai ebbè è molto semplice capire come mai non è un grande mistero quello che basta andare a cercare è che cosa è stato usato dalle compagnie bananiere francesi per 30 anni in termini proprio di pesticidi e di interferenti endocrini soprattutto questo che si chiama clordecon che in casa non hanno mai usato e che invece hanno usato molto lì e quindi è chiarissimo quello che succede devo dire che abbiamo portato questi dati in comunità europea è stato tolto la clordecon adesso ne hanno messo un altro e si ricomincia questa è la nostra consapevolezza abbiamo trovato le cosiddette placente in crete a crete per crete cioè infiammate la placenta come sapete è un organo importante è l'embrione che si costruisce la placenta per prendere le informazioni la nutrizione l'ossigeno ebbene se diventano invasive è perché si sta diciamo turbando la tolleranza materno-fetale che è un meccanismo che ha 80 milioni di anni almeno da quando ci sono i placentati per lo stesso motivo stanno aumentando in queste zone più inquinate i casi di prematurità seria cioè i cosiddetti grandi prematuri e abbiamo visto cosa significa nella maturazione del sistema nervoso allora abbiamo chiesto un finanziamento per studiare tutto questo lo abbiamo avuto e abbiamo condotto per due anni non posso dare molto risultati ancora uno studio sulle placente a Taranto a Milano a Pisa e a Cagliari quattro realtà totalmente diverse ebbene è totalmente diverso l'epigenoma di Taranto ve lo immaginavate? beh però adesso abbiamo i dati cioè possiamo vedere la differenza che c'è guardate che Milano non sta molto meglio e questo è già indicativo Cagliari e Pisa vanno meglio però a Pisa ci sono molti metalli pesanti perché? andate a vedere in Garfagnano e lo capite c'è una quantità enorme di industrie che lavorano i metalli allora tutto questo basta dimostrarlo pubblicarlo no non basta o si diffonde questa consapevolezza e si fa attenzione come si fa ormai almeno in una parte dei paesi del mondo ovvero noi rischiamo di essere i fanalini di coda per esempio noi e voi penso che non ve la potevate aspettare abbiamo il record mondiale dell'aumento dei tumori infantili questo non si dice e non si racconta è quasi il doppio degli altri paesi evidentemente la scarsa attenzione per tutto questo ha contato ora immagino forse vedo che alcuni sono un po' turbati beh a me dispiace raccontare tutto questo ma è tutta ricerca ed è tutto su letteratura scientifica di alto livello sui pesticidi ci sono migliaia di articoli non vengono presi in considerazione più di tanto il particolato ultrafine lo abbiamo già visto e non ve lo ripeto queste slide ve le ho fatte vedere all'inizio perché mi sembrava importante collegarlo con quello che sta succedendo nella pandemia l'ultimo i dati epidemiologici concernono le grandi città più inquinate del mondo questa è città del Messico quello che si è visto ormai dal 2001 che a città del Messico il particolato ultrafine fa esattamente quello che fanno i virus nella covid cioè entra attraverso il nervo olfattivo determina la precipitazione e il folding alterato della beta-amiloide che è una proteina e ci sono dei danni che rimangono potenzialmente per sempre allora anche lì la necessità di ridurre questo tipo di esposizione è evidente e non ha senso dire ma questo rallenterebbe in qualche modo il circuito no va rallentato non ci sono soluzioni alternative perché è inutile sperare che la situazione cambi semplicemente con una riverniciatura in senso green della nostra economia l'economia deve essere in qualche modo rallentata e cambiata almeno per quanto concerne alcune esposizioni soprattutto quelle più recenti e difficilissime da studiare perché per esempio è chiaro che se dal 2008 abbiamo gli smartphone non solo noi ma anche i nostri bambini dalla mattina alla sera e spesso la notte in mano beh questo qualcosa bisogna fare per ridurre l'esposizione dei piccolissimi perché non ce ne occupiamo perché si dice non ci sono evidenze beh ma le evidenze ci sono nella letteratura scientifica perché i campi elettromagnetici endogeni vengono usati dalle nostre cellule per esempio per migrare quindi è chiaro che se la mamma lo usa sta interferendo con la migrazione delle cellule non c'è molto da immaginare di più e soprattutto e insisto il fatto che vengano esposti ormai bambini anche piccolissimi a questo tipo di situazioni lo abbiamo scritto nel 2018 in una serie di studi abbiamo fatto vedere come in vitro basta esporre le cellule a frequenze 900-1500 MHz che sono quelle del cellulare per vedere una serie di cambiamenti del genoma soprattutto nelle cellule embrionali e nelle cellule staminali quindi questa esposizione la mamma è felice è orgogliosa non va bene non va bene è pericolosissima ormai lo sappiamo perché quella addiction significa che si sta creando un circuito di dopamina che non si che è difficilissimo poi trasformare quando avviene così presto questo ormai la letteratura la sapete concerne tantissime abitudini che poi ci chiediamo da dove vengono fuori il fatto che un milione di ragazzini siano chiusi in casa in Giappone e vivano così è colpa loro non è colpa loro è semplicemente il risultato di una realtà in cui non sono stati adottati dei criteri di come dire di attenzione sufficienti allora finalmente concludo e mi spiace di avervi dato questo tipo di dati però vi assicuro che la letteratura su questo è ormai evidentissima c'è un aumento per esempio di disturbi dell'umore e di suicidi nelle società del nord del mondo soprattutto negli Stati Uniti e sta arrivando anche in Italia e ci sono dei giochi come questo che dovrebbero essere vietati per sempre in questo gioco che si chiama Granny che è dilagato negli Stati Uniti il bambino uccide la nonna deve ucciderla prima che la nonna lo uccida non si può far girare sta roba quindi a mio parere se cominciamo a fare attenzione ma fin da adesso si possono fare grandi cambiamenti e per chiudere vi ricordo alcune note positive guardate il latte materno il latte materno è pieno di cellule staminali le cellule staminali per milioni di anni hanno passato la parete intestinale sono entrate in circolo sono andate nei tessuti hanno letteralmente sostituito le cellule danneggiate se ne può fare a meno bisogna usarlo almeno per sei mesi e questo deve diventare cultura generale e poi ci sono anche queste cose che sembrano quasi uno scherzo ma noi per esempio abbiamo dei colleghi che usino certi tipi di musica per esempio nelle neonatologie e sembra forse non è un caso che la musica di Mozart sia in assoluto la migliore vi ricordate quando Woody Allen diceva non mi piace la musica di Wagner ogni volta che l'ascolto mi viene voglia di invadere la Polonia ora forse è un po' eccessivo però quello che stiamo vedendo in qualche modo lo rievoca volete bambini che non abbiano voglia di invadere la Polonia fategli sentire la musica di Mozart ed evitare Wagner e l'hard rock quando le mamme sono in gravidanza sembrano piccole cose ma secondo noi da quello che stiamo vedendo sono importantissime ed è proprio per questo ci sono studi che ormai lo dimostrano fanno vedere la differenza proprio del modo in cui le reti neuronali si formano in maniera armonica o meno quindi scherzando alcune volte dico l'unico errore del grande Schultz è stato di mettere Schröder come grande amante di Beethoven forse doveva mettere Mozart e comunque questo è una nota giusto per non chiudere con troppa tristezza grazie grazie a tutti